Il carcinoma del colon è un carcinoma che si manifesta in Nord America, in Europa e in Australia, spesso correlato a una familiarità da poliposi, intorno ai 60 anni, a volte pure a 50 anni quando c'è la familiarità. I fattori di rischio sono la dieta, quindi soprattutto proteine per carri rossa e grassi che aumentano la secrezione del biliare e i batteri trasformano i sali biliari in carcerogeni. Poi abbiamo il fumo, ovviamente la correlazione con l'incidenza, la familiarità e malattie precedenti come colon, rettocolito ulcerosa e poliposi. Dal punto di vista macroscopico abbiamo una forma vegetante a destra, con sintomi come l'annemia sideropenica per lo stilicidio ematico della lesione e sintomi come la diarrea, mentre dal punto di vista macroscopico a sinistra abbiamo i tumori infiltranti annullari stenosanti con sintomi di ostruzione e di subostruzione, sanguinamento in particolare e dolore nella fossa liaca di sinistra. A destra c'è dolore nella fossa liaca di destra e con una diagnosi differenziale da fare con l'appendicite. E poi abbiamo quelli ulcerati nel retto anche qui con fenomeni di subostruzione e di ostruzione. Dal punto di vista microscopico, nel 10% dei casi, una cosa importante, possono avere un aspetto gelatinoso i carcinomi. Dal punto di vista microscopico abbiamo l'adenocarcinoma NAS, non altamente specificato, l'adenocarcinoma mucoso, o mucinoso meglio, che è molto grave questo, e presenterà dei laghi di muco in cellule tumorali, l'adenocarcinoma a cellule con castone, il carcinoma a squamoso, l'adeno a squamoso a piccole cellule ed anaplastico. Le displasie saranno di 3 gradi, ben differenziato, moderatamente differenziato e scarsamente differenziato. La TNM è la classificazione più usata, di solito anche qui T1 mucosa, T2 sottomucosa, T3 tonnega muscolare, T4 infiltrazione extra organo, poi N1 dà più o meno un linfonodo, 1 a 3 linfonodi, N2 più linfonodi, e poi M0, nessuna metastasi, M1 con le metastasi. Diciamo che è una classificazione un po' semplificata, però comunque è per renderci un po' conto di come possono evolvere, dall'istante di T, N ed M. Però ci sono delle classificazioni come quelle di Dux, che sono state utilizzate anche nella storia dell'anatomia patologica. Abbiamo di Dux quelle tipo A, fino alla sottomucosa, quelle tipo B, fino alla serosa, quelle di tipo C1 o 2, con coinvolgimento linfonodale. Poi c'è anche questa classificazione molto importante, quella di Astler-Koller. Allora abbiamo A1, B1, B2, C1 e C2. A1 ci sarà l'interessamento mucosale, quindi solo mucosa, P1, fino alla muscolaris propria, B2, fino alla serosa, senza interessamenti linfonodali, C1, fino alla muscolaris propria, con interessamento del linfonodo, C2, oltre la tonaca serosa, con interessamento linfonodale. C'è anche un tipo D che invade gli organi, con o senza metastasi a distanza. La prognosi sarà soprattutto diversa a seconda della sede, del grado di infiltrazione delle caratteristiche estologiche. Le metastasi linfatiche sono di solito linfonodi peri paracolici, epicolici o a distanza. Quelli a distanza ovviamente danno la prognosi più negativa. Quella ematica invece è il fegato e il polmone. Il fegato perché c'è il coinvolgimento soprattutto del circolo portale, invece al polmone per la vena cava. In realtà può essere intaccato anche il cervello e le ossa. La sopravvivenza a 5 anni del 70% se non ci sono metastasi. La sopravvivenza a 5 anni del 70% se non ci sono metastasi. La sopravvivenza a 5 anni del 70% se non ci sono metastasi. Grazie. Grazie.